Şu l'EU di Kormaris Salve da Nerevoli e eccoci qui un nuovissimo episodio, e siamo su The Dwarven Io sono Larax di Kormaris e nello scorso episodio ci sono lasciati, con la decisione del consiglio e, in generale la nostra sfida e dovevamo avanzare anche di tanta ma veramente tantissimo e ora quindi ci avviamo nel viaggio e mentre ho fatto alcune prove nello scorso episodio a vedere se davo risposte diverse beh il consiglio se ne frega altamente la prova esce sempre quella fine della discussione quindi avanziamo direi che ci conviene andare per la foresta e non tanto per la pianura e si abbiamo scoperto ansia va il più alcoolista she was almost as belligerent as boindill and she got it into a blockhead to stand by him in battle a bad decision you can see the pain he is suffering in his eyes you place a hand on his shoulder and put him under no pressure to carry on the constant bickering between boindill and bavrigor distracts you goymgar hears the clanking of armor first something is coming before you know it the orcs are charging towards you over a hillside no che palle però comunque è carino il fatto che c'è stato un battibecco da molto più pathos alla situazione anche se di fatto sì nemmeno io avrei mandato mia sorella a combattere accanto a boindill ma la vita è questa andate vediamo le nostre debilità dei nuovi guerrieri allora robustezza le ferite non riducono la sua salita inizia sempre a combattimento con il 80% di salute ah quindi tu inizi con meno vita però non subisci ferite questa non l'ho capita antipatia questo è verissimo è verissimo sei un rompicazzo assurdo spero solo che durante il viaggio ti rivelerai come ogni buon viaggio d'eroe come il miglior aiutante di sempre la persona brava intelligente simpatica che non ci spero manco per il cazzo comunque è dispersato da tutti perciò attira automaticamente lancia una manciata di cristalli per attirare gli aggressori in un determinato punto potrebbe essere strategica come scelta colpisce il volto un nemico con il suo scudo facendolo cadere per terra si nasconde sotto lo scudo per quasi per qualche istante subendo così una quantità minima di danno in realtà può essere molto utile per le sue robe però per ora andiamo con il nostro amico scalpellino perché dubito ci sia di fatto qualche grande battaglia uscita raggiunta la domanda è dov'è l'uscita cioè credo che sia verso di lì è pure un'imboscata quindi noi ci apprestiamo in più velocemente possibile a raggiungere il finale figli di troia no storditi no ok sei stordito proprio il mio tank dovevi stordire ok no 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 boindy le con noi per quanto ti da fastidio salto per gli stradini un bel fendente ok però non dobbiamo subire troppi danni ok impazzisci tu ok allora concentriamoci due su di lui e uno su di lui perché basta ok perché è caduto perché cazzo si è caduto ok scalpellino allontanali di nuovo ok colpo fendente perfetto possiamo proseguire almeno levati dal cazzo i quattro principali no non possiamo perché devi andare ora devi impazzire ora e attiriamo lui fai una bella liberata di zona no 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 ok ok dove è il nostro amico ok lì tu corri lì non ha senso che in piara combattere perché tanto non cambierà di molto la situazione ok ok ora tu vai di attacco così li allontaniamo il più possibile e dobbiamo sperare che il nostro amico non ci dia più di tanto fastidio comunque nel mentre il Tunglid è vero sta aumentando la sua resistenza lo sento ok guardate che bello che attendono felicemente che noi scappiamo tu non metti nulla tu vai sempre di pazzisci insomma ok guarda quanti porco giudacinero ne sarebbero copiati a dare qual'era la cosa trista tu chi sei oh porco giuda allora che aspettavi ok tu non hai senti azione tu invece si chi è il nemico vicino vicino all'uscita ma sono tutti vicino all'uscita mi perdono ok siamo fuori non ancora ok cioè bello li stiamo ammazzando praticamente con calma ok ma ti direi ok distruggetemeli ok 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 tu vedi il però cazzo combatti il primo ok ok ora siamo distanti ok dovremmo essere distanti tra l'altro ho recuperato anche tutta la vita perfetto è stato più semplice di quello che credevo anche perché insomma si erano tutti bellamente baggati ottimo ok potenza e va bene non lo posso ancora sbloccare non ho capito bene come funziona lo sbloccaggio abilità ah ok me l'ha sbloccato da solo la forza gli attacchi aumentano notevolmente per un breve derudo di tempo hm tu vedi verso Mifidania con Goimgar out ahead i orcs a sua sembra immobilize unimagine powers in him e riusc gate first hammering manically against it he says something and scurries through a small gateway that has been open to him moments later you also reach the gate get in quickly you push your way through the gate as the first orc arrow slam into the wood next to salve per un pelo no manco per il cazzo salve per un pelo sono venuti assediare la città non saprei cosa si può fare onestamente the other dwarfs said we should bolt the gate behind him but we could use all the help we can get when the orcs come that treacherous sissy where is he bo and dahl and I will look for bo indial and bavragore help ok ora quindi qual è il muscolo cercare il nano che si è messo a correre via in the past traveling showman regularly put up tents like this in front of lot yonan's vault to draw little money from the pockets of the servants and the family with plays vocal performances and all kinds of fun the fabulous rodario cometh dear spectators cometh and see let the theater curiosum with its star actor the fabulous rodario the mysterious nomora and the genius magister technicus fergas carry you off to another world onestamente now see and here dear spectators the truth about nudin the knowledge lusty who disposed of the other magi in a most horrifying way and plunged girdleguard into disaster girdleguard it will be mine lord yonan vorrei solo specificare che uno fuori mentre gli metteva la mano sul volto uno fuori nella piazza voi non avete sentito però urlato porco dio quindi si effettivamente quello nella mia mente stava formulando cioè ok dobbiamo cercare l'imbroglione lui non ci ucciderà ora ne sono sicuro ma nel mentre che cazzo sta succedendo porco juda ok hai fatto un grosso errore uccidere farla fra Lara e gli non glielo diciamo perché di fatto non sappiamo se l'ha uccise effettivamente l'abbiamo trovato il suo cadavere ti ucciderò posso rispondere gioiegniere io dico gioiegniere diciamo ridammi lo zaino no non rubarmi lo zaino dai che palla l'abbiamo non c'è non c'è non c'è o non c'è il habit di non parlare sulle negozioni con servizi senti la blade corta in la pezza e lo prendi come signo di piccola vittoria oh qui abbiamo qualcuno qui tenta il potere a qui si 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 Sì, è meglio le mura. In zone più ostiche e più favorevoli per noi, insomma. E che cazzo è una pozioncina, se ti va bene. Comunque le pozioni servono a te, più che altro. Tu ti prendi questo. Ok, iniziamo a combattere. Ok. No, ragazzi, che cazzo. Dai, non bloccatevi tutti da soli sulle scale. Uno va lì. Tu vai lì. Tu attacca questa. Tu ti sposti qui. Ci sono troppe scale. Decisamente troppe. Però lui è il colpo possente. Ok. Tu fai finita di distruggere? Spostati qui, immediatamente. Vai. Tu rimani sempre lì fermo. Ok. È tutto qui? No. Che figura di merda. Ah, tutto qui finito, tranquilli. Manco per il cazzo. E questo sarà sicuro, va bene? Ok. Scusate. È vero che lui non può prendere ordini. Ho piuttosto di rispostati qui. Voi e due. Andate lì. No, 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 no. Proprio lì è la cosa più sbagliata che puoi fare. Ok, via. Levatevi dal cazzo, porco Giuda. Non volete che... No, 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 no. Bestemmiare, ecco, cosa. Tu. Ok. Impazzisci. Bene. Ci serve il tank. Che però come un buon tank è lentissimo. Ok. Possiamo buttarli giù dalle scale ora che ci penso. Sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, effettivamente non è una buona idea. Ok. Lancia di dei cristalli. E... Fossi te comincerei a pregare qualche dio se ne hai. Ok, scendiamo. Verso le porte laterali. I cristalli non sono serviti a un cazzo, PS. Ok. 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 Avrei voluto esplorare di più una città, ma non so se siamo andati proprio nel punto più sbagliato. Sì, è fermato. Siamo ottenuti in un modo. Potremmo noi possiamo essere di servizio, ragazzi. Sì, scendiamo. Siete dei ladri? Sì, sicuramente non. Siamo artisti. Siete dei ladri. Tra l'altro, Nelpa. Non vuol dire lasciare di lasciare Lifadania, anche? Avete avuto qualcosa di contro noi che ti chiamano? Vai, facciamo mentare il gruppo, tanto. Eh, ti conosco, tu sei l'incredibile Rodario. Il fabuloso Rodario. Oh, un ammiratore delle mie scelte? Chi avrebbe pensato? Sono, in realtà, l'unico e l'unico fabuloso Rodario. Questo ragazzo è Fergas, il migliore Magister Tecnicus da un pensato umano. E, ultimo, ma non l'interno, l'encantante Nomura, che la bellezza fa le rose rose con l'envy. Eh, potremmo si parliamo di discutere il resto quando siamo fuori di questa messa. Direi decisamente di sì. Abbiamo una lunga e dangerosa prima di noi. Non credo che ti vuoi invitare a noi. Un epico e un genio di 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 un genio. Sì, e comunque, ancora, ho visto che con le le sospiti di un genio di loro. In questi angosti in Redvo, un grande gruppo di lavamento ti ritirà la migliorare, non credo? Non credo, l'Occ sabes. Gostrins gli occhi ancora che irgi nel gattaro e dall'integro. Tu lo決i che questo non è il momento per discutere. D'essere! Oddio. Siamo venire qui? Quei ci siamo fatti con i Prima ritorna? I Prima ritorna. C'è splendore dei loro vittori deve essere un belastro Ma? Ma? Va bene. Per me va bene. Quindi il gruppo si... questa onestamente è una cosa che non apprezzo quando il gruppo si espande tutta una volta perché non fa in tempo a conoscere bene una persona. Che cosa fa? E subito diventa un casino. Ma prima di tutto io vorrei salvare. Ok. Per poi caricare qui. Per il semplice motivo che io voglio di fatto vedere una volta entrati in città che cosa succede. Cioè se noi andiamo direttamente lì alla capanna, che poi tra l'altro è un piccolo errore, non lo so. Magari non ce l'abbiamo. Ok, rieccoci qui, facciamo un breve salvataggio. Sì, io riparo tutto il pezzo. Semplicemente un attimo che voglio un po' esplorare il luogo e vedere cosa ci dice. Ok. Ecco, già il fatto che possiamo parlare con il mercante. Com'è normale che sia? Questa è la più grande città che ho mai visto. Dopo Purista. Mostrami cosa hai da offrire. Ecco, già è tanto. Talisbano del lupo, suppongo. Del 75%. E tanta, cioè lui vende in realtà robe utilissime. Solo che noi siamo stati stronzi e... Cioè io sto ancora pensando... Vi devo credere che noi siamo stati a confinare... Ci dobbiamo confinare. Ci dobbiamo confinare. Ci dobbiamo confinare. Vi voglio dire la tradizione... E' stato molto felice. E' stato molto felice. Ci dobbiamo fare. E' stato detto che anche a confinare. Di soldi. E' stato di conto di soldi e tusi compagni. dista ma di fatto non è giusto che noi ricarichiamo e scegliamo l'opzione migliore è più corretto che scegliamo il così come va il gioco però comunque sono curioso di esplorare la città e vedere soprattutto se ci attacca in altra maniera. Ma è minuscolo minuscolo e dici mio dio che bella non credo sia una saggia scelta a comprare dei poni quando la città è sotto assedio cazzo ci credo l'unica cosa che attrae la tua attenzione sono le lampi di olio che scegliano la strada solo una città di trading potrebbe affrontare qualcosa così beh effettivamente quindi hanno effettivamente non ci ho pensato hanno illuminazione pubblica è una cosa che c'è di fatto per noi magari è scontata e non ci pensiamo minimamente quindi quella quel dialogo è stato proprio messo alla perfezione di fatto noi fino ad ora non abbiamo visto illuminazione pubblica se non magica quando si è andati al giardino degli elfi che da tutti i morti che si sono che sono resuscitati però di fatto sì l'illuminazione pubblica è un bene di lusso di fondo su una città molto ricca se la sarebbe potuta permettere pertanto pertanto sì è una curiosità interessante anche perché di solito noi avendo già oramai credo in tutte le città d'italia sia l'illuminazione pubblica pertanto lo diamo totalmente scontato è una cosa che diamo totalmente per scontato questo testo balbetto parlo un po' male con il problema che gli avrà appena finito di studiare l'occhio che è il suo semino corso il concetto ma quindi si prendete ciò prendiamo un culo e finisce sempre così abbiamo fatto solo l'unico errore di andarci ad avventare immediatamente contro quella roba ma era la roba più vicina anche perché poi qui la domanda sarebbe scusate ma lui ci ha preso in mezzo allo piazza in mezzo allo spettacolo ci ha portato via senza che nessuno dei passanti se ne accorgesse in piena piazza mi ha portato da indietro un angolino come uno stupratore cioè parliamone ragazzi qui abbiamo un'orda credo che saremo costretti a fare il giro largo sai e lei si sposterà qua noi qui e no ci raggiunge dobbiamo fare per forza il giro largo perché se questa si muove di un passo ma probabilmente sa dove siamo si muoverà verso di qui noi ci spostiamo verso di qui un passo ma caselle ci prende qui dovremo fare il giro largo in the evening after your escape from mifidania you recover from your exertions around a campfire goymgar withdraws to a solitary corner bavragor devotes himself to his alcohol and the twins get their smelly dwarf cheese out nomora and fergus exchange hugs and kisses on the other side of the fire while rodario sits next to you ah a journey with real dwarves to the stronghold of the firstlings i'm sure i can write that into my new piece ora tra noi i mezzorchi c'è un giorno di cammino cosa intendete fare far enough away from mifidania perhaps we should part ways tomorrow morning rodario jumps up and begins to gesticulate ostentatiously i think you have underestimated us let me introduce myself and my colleagues once more i am the fabulous we don't have time to look after a pack of jesters rodario seems offended for a moment but then he grins turns away from the group and raises his right arm a jet of flame shoots out of his sleeve the dwarves are startled and amazed by the brief spectacle and what do you say now critical mr dwarf huh you're a magus i don't particularly like that as curious some magic is my area of responsibility there is a tube under his arm with a flint and a bag full of like a pediella seats when he firmly presses the bag the flint spray sparks and the seeds shoot out and there you have it magic fire masterly work for us the magister technicus shows his appreciation but it's interesting like this of their sleeves and they might not be such a burden after all tonneel mhm quante proviste avete con voi we are happy to share what we have it isn't very much though we had to leave most of it behind food is sure to be a problem on our journey winter is only just beginning to leave way and and people will be keeping a tight grip on the stocks they do have because of the orc attacks we have to be frugal and organize as much food as we can it wouldn't be much of a heroic story if we starved on the way to the first things che travestimenti impressionanti non avevo mai visto nulla del genere mas congratulate you on your skills find it hard to believe that is not achieved by magic aha thank you but i assure you it has nothing to do with magic just alchemy and accomplished acting we leave the sorcery to the magi okay don't mention them there's no love lost in andokai in her walking iron tower you've met andokai the tempestuous that is unbelievable how was she she ran away to the outer lands a damn disgrace aveva le sue ragioni almeno ci ha messo su questa pista adekai had her reasons to leave us she had already fought against nodon and was unsuccessful furthermore we wouldn't be here without her and she told us about king five onestamente reputo comunque bigliacco il suo comportamento ma non che cavolo dai i have to use the ad in my new peace true to his words rodario takes out his notebook and write something down a me sentito parlare dei primi sai come raggiunge la loro carrefour you know anything about the person if i recall the map correctly we need to cross the first large mountain in the red range and then passed through snowdale to east Il nostro missione è di forge il Legendario Axe Keenfire e destroyer il Traitor Nodon. Se vuoi accompagnare noi con l'acqua, l'acqua e l'errore, facciamo così. È la tua decisione. Come potremmo non partire in una storia? Pensate che un giro di giro che potremmo fare di questo. Se abbiamo salvato, ho sperato di riservarsi solo dopo aver riuscito il Red Range. Inoltre, abbiamo una lunga giornata e un incontro percorso davvero. Beh, eppure noi ci stiamo affidando una leggenda, non per nulla. Ok. Ci conviene, allora, se Lorda rimane ferma, di fare questo passaggio come previsto dall'inizio. E poi scenderemo qui... Giù... E diciamo che questo piccolo passaggio ci è un po' scombussolato il tutto. Ad ogni modo, sicuramente voglio arrivare qui per verificare se la sua teoria è vera. Anche perché da qui, come vedete... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 6... 7... Ma tutto questo per diminuire di una casella, porco Giuda! Che cazzo di scorciatoia di merda è? Ad ogni modo, signori, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tirante. E ci becchiamo nel prossimo episodio. A presto!